Buonasera al torneo arcobaleno, Atletico Pisau e Espino di fronte, Espino a caccia di tre punti per rimanere in testa, Atletico Pisau per accorciare, quest'ultimi con Piso tre pali, poi Meli, Alessio Piso e Toscano in difesa, Manana Belfiore a sostegno di Castorina. Nella parte opposta, Espino si presentano con Mangionta e Pari, poi Vilardo, Vella e Morace in difesa, Morgioni e Spano a sostegno di Inciguerra e di somma in panchina. Andiamo a vedere quindi gli highlights di questa partita che come mostra grafica regala tante sorprese. Le immagini portano subito al terzo minuto con questa immediata progressione degli Atletico Pisau, cioè su, degli Espino che si porta in avanti e poi Alessio Piso fa davvero un autentico miracolo. Rivediamo la bella azione degli Espino e subito qua Alessio Piso mostra di metterci tanta grinta. Espino che provano ad andare ancora in avanti con questo gran tiro da fuori che forse sorprende eccessivamente il portiere degli Atletico Pisau. Vella trova il gol dell'1-0 che sblocca quindi il risultato quando siamo al quarto d'ora di gioco e vediamo il tiro. Dopo appena tre minuti però gli Atletico Pisau provano a rispondere con questa bella azione che cede palla Belfiore. Il tiro e Mangion sembra forse vedere altro perché la palla si inzacca improvvisamente alle sue spalle e c'è l'1-0 su un tiro comunque sia alla portata di Mangion. Forse il difensore oscurragli la visuale. Vediamo il mancino di Belfiore che batte completamente Mangion. Al diciottesimo minuto ancora Atletico Pisau in avanti con Toscano. Il tiro e Mangion è nuovamente battuto 2-1. Mangion oggi non sembra proprio in giornata un 2-1 che quindi per ora scondanna la classifica dei AS Pino. AS Pino che alla fine devono cedere ulteriormente quando su questa gran bordata di Piso è il palo a salvarli. Ma l'azione prosegue e c'è ancora Piso che imposta molto intelligentemente. Poi vedono l'inserimento di Belfiore che si libra molto bene per il sinistro e colpendo leggermente il pallone batte ancora Mangion. E questa è davvero l'azione che fa capitolare gli AS Pino con gli Atletico Pisau che insistentemente hanno provato a bucare la difesa degli avversari. Nella ripresa la replica degli AS Pino è al trentatresimo quando di somma in qualche modo grazie ad un rimpallo riesce a servire Morgioni che batte il portiere Piso. Rivediamo anzi è addirittura un assist degli stessi Atletico Pisau a servire Morgioni. Al quarantesimo minuto vanno ancora in avanti però gli AS Pino con questo grandissimo gol di Belfiore. Non si sa se fosse cercato o meno ma davvero una bella marcatura. Un po' la Cevchenko contro il Juventus per chi si ricorda. Rivediamo dal replay il gran gol di Belfiore che batte Mangion. Al quarantunesimo minuto prova la replica con di somma di testa e si riaprono ancora i conti duri a morire come diceva un vecchio detto. Gli AS Pino provano ancora a tenere in vita la partita per quanto possa essere possibile visto che oggi il gioco di Atletico Pisau comunque sia sembra essere superiore. Gli Atletico Pisau mostrano questa superiorità con questa bella azione. Palla ancora messa per Belfiore che prova a liberarsi scarica palla in mezzo ancora e c'è il gol di Castorina che va praticamente a chiudere i conti. Rivediamo la bella palla messa in mezzo e Castorina completamente solo una difesa di ES Pino che finora aveva mostrato di essere il punto di forza e che cede così. Gli AS Pino che non ci sono più si scoprono e allora Belfiore serva ancora Castorina e c'è il gol. Quando siamo ormai verso il fine della partita c'è il gol di Castorina. Gli vediamo bravo Belfiore a servirlo e c'è il gol ancora dell'attaccante dei Atletico Pisau che chiudono così una partita molto importante per loro. Con questi tre punti si rilanciano in zona Champions mentre gli AS Pino devono rinunciare al primato. Gli AS Pino che si rilanciano in un'altra partita c'è il gol di Castorina.